Siamo con Stefano Argnani, presidente Alcatrusca, che ha organizzato i prossimi campionati assoluti toscani al campo d'atletica d'Arezzo, quindi Arezzo di nuovo al centro dell'atletica in Italia. Sì, l'appuntamento sicuramente più importante della stagione toscana 2017, tutti i migliori atleti toscani si misurano in questo campionato toscano assoluto, quindi che assegna i titoli di 2017 di campione toscano e inoltre vale come terza prova del campionato di società, quindi serve i vari club per guadagnare i punteggi per le finali nazionali che si svolgeranno a settembre. Senti, ci sarà anche qualcuno che ancora cerca di fare il tempo per conquistarsi i mondiali? Sicuramente vedremo anche diversi toscani azzurri che appunto devono gareggiare per loro club per farli guadagnare punti, quindi è un po' il periodo dove ci sono anche molti appuntamenti internazionali, quindi magari qualcuno è impegnato fuori, però sicuramente vedremo delle ottime gare. Quindi invitiamo tutti gli aretini, vogliamo dire è uno spettacolo bellissimo, tutto gratis e nello nuovo stadio di atletica che è molto accogliente, quindi li invitiamo, ricordiamo il programma? Il programma è sabato 24 e domenica 25, le gare a partire dalle ore 18 fino alle ore 22, quindi anche in un periodo fresco e niente, è tutto gratis, non c'è biglietto, in un bel posto per vedere un grande sport. Quindi corsa, lanci? Sì, prevede tutte le gare del panorama dell'atletico, tutte e 22 le gare femminili, abbiamo sì, tutta la velocità, quindi con 100, 200, 400 metri e varie staffette 4x100 e 4x4, tutti gli ostacoli, quindi 110, 400 ostacoli, tutti i salti, quindi lungo, triplo, asta ed alto, tutti i lanci con peso, disco, giavellotto e martello e tutte le gare del mezzo fondo e fondo, quindi a partire dagli 800 fino ai 5.000 metri in marcia. Grazie a tutti.